Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Puppo, ospite di Maurizio Costanzo, ha affrontato una questione piuttosto delicata Ecco cosa ha dichiarato.Di recente Puppo è stato invitato da Maurizio Costanzo a Facciamo Finta Che, programma radiofonico che va in onda su Radio 101 e qui ha affrontato una tematica di attualità Ecco che cosa è accaduto esattamente.Puppo spiega il motivo della sua assenza Puppo ha avviato la sua carriera nel mondo della musica nostrana negli anni 70, il suo primo album, Come sei bella, risale al 1976 In quell'anno ha avuto inizio anche la sua carriera di parogliere e compositore Nel 1980 ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con il brando Su di Noi che è stato un suo grande successo L'anno seguente invece, è stato invitato nuovamente sul palco dell'Ariston ma come parogliere con il brano sarà perché chiamo dei ricchi e poveri Verso la fine degli anni 80 è diventato conduttore ed è stato al timone, insieme a Edvige Fenec, di domenica in Due anni dopo è stata la guida di Il Nuovo Cantagiro con Mara Venier Negli anni 2000 ha fatto la sua comparsa in diversi show come, Quelli che il calcio e la fattoria, reality a cui ha partecipato nel 2005 Sempre in quell'anno ha presentato, finalmente, una trasmissione sua, Il Mallocco È un artista molto apprezzato anche a livello internazionale e, in modo particolare, in Russia, dove si è esibito dal vivo diverse volte Negli ultimi anni è stato un po' assente dal mondo dello spettacolo, c'è però una spiegazione Ecco cosa ha dichiarato. Era la sua preferita. Pupo è tornato a far parlare di sé per l'ultima intervista con uno dei principi del giornalismo nostrano Il cantante ha deciso di spiegare perché, ultimamente, è rimasto dagli schermi Ho deciso di stare un po' lontano dalla televisione e fare i miei concerti perché poi sai mi fanno le domande sulla Russia e io non voglio rispondere ha dichiarato Il musicista ha precisato di non essere a favore della semplificazione e allora preferisce non prendere parte a programmi televisivi Il cantautore di Su di noi ha aggiunto di aver fatto, in passato, un concerto per Lavrov, il ministro degli esteri sovietico, che era un suo grande fan che, in quell'occasione, ha intonato gelato al cioccolato Secondo Enzo Ghinazzi era la sua preferita.Infine l'ospite ha concluso affermando di essere un esperto di cultura popolare rossa, ma che qui in Italia non c'è il clima giusto per esprimersi, se non in modo molto semplificato, che a lui non piace Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao